Allora guardate questa è una situazione molto interessante Allora Wagner ha fatto Ascension Ma Angelo non ha fatto criptico E' stato bravissimo e ha fatto snare Perché è meglio snare? Perché se l'altro tiene due mana open Probabilmente ha uno dei tre E l'ha buttato la pesta Con il swing che abbiamo visto prima Avrebbe portato Angelo a una rapida vittoria Sì, quindi ci stava Peccato per Angelo non avere l'esarca Perché con l'esarca obbligava Wagner a fare remanda Perché sennò era morto Esatto Perché ha un remanda Boh Sì ha un remanda Anzi se avesse avuto esarca Sì sì ce l'ha mostrato Cioè lo deduciamo perché aveva due mana open Tutto così Comunque Se Angelo ha esarca Conveniva a questo punto Tirare l'esarca in upkeep E tenersi lo snare open Sì Perché il turno dopo chiudeva Quindi se l'altro ti fa remanda Ad esempio ipotesi Tu puoi fare snare Per difendere la tua combo Perché dopo sei inattaccabile Sì è sensata Qui Wagner propone di nuovo Piromancer Ascension A ripresa di Noxius E secondo me Angelo sta valutando benissimo Se fare Entrare Ascension Quando si carica In risposta alla prima trigger Il primo counter Puoi rimbalzarlo e pescare una carta Quindi noi sappiamo che Angelo ha ancora criptico in mano Sì Potrebbe essere una buona idea Counterare e pescare Sicuramente Molto facile come giocata Ma sicuramente Darà i suoi risultati Eventualmente È interessante che Wagner sia 10 Praticamente Ma che è che sto scrivendo Cos'è che hanno scritto Sì Va bene È un mazzo Queciso da Ascension Si chiama comunque Storm Questo mazzo Ah sì sì L'hanno chiamato Unstorm In molti Perché è strano Però La base Storm ma senza stormare Comunque ragazzi è un combo Cioè È per essere più generici E ora Angelo Tirerà il suo criptico Eh Invece no Faro Faro Quindi probabilmente Angelo sta aspettando Qualche trigger Per tirare il suo criptico Perché Tirarlo così non avrebbe guadagnato Molto tempo Io non riesco a leggerla Fino là in fondo ragazzi Quindi ci penserà il nostro Matteo Per dire Utilizza l'effetto di faro E la carta che non conoscevamo Blu Era Twist and Image Che in effetti In questo matchup Penso sia una Facile carta Sia da da scartare Che da sedare out Ma mi viene da ridere Il commento che Adesso dice Cloud Scrapers Se fare manda su Sarka Muori dallo snare Che conosce Ah fai Sarka Lo fa entrare Poi muori comunque Cos'è che ha chiesto Agner non sapeva ancora Ma fa niente Fa niente Vabbè Seguiamo la partita Intanto Comincia Secondo me infatti Vabbè Forse se ho intuito Quello che vuole chiedere Cioè È vero che Se dopo Angelo A Sarka Praticamente Wagner va a perdere Però uno non può Tenersi le sue bombe Non chiudere Proprio per stare in difesa Perché prima o poi Twin riesce ad averla meglio Quindi ci sta Come sta facendo Secondo me Wagner Giustissimo Ma se non porta avanti Il suo gioco Cosa fa Se non porta avanti Il suo gioco Alla lunga va a perdere È inevitabile È una delle cose Che sa fare meglio Twin proprio Scarta via Dalla Flooded Di Faro Faro comunque Veramente Quando comincia Ad entrare in azione È un'ottima carta È una carta pazzesca È veramente fortissima Perché copre Quel gap Quello svantaggio Che il modern offre Cioè chi pesca più l'anno In genere Perde proprio delle carte Con Faro invece Riesce a ridurre Questo effetto Però pagando tantissimo Perché 4 mana È davvero tanto Forse è l'unica forma Di manipolazione Di tutto il formato È una delle poche Costante È allucinante Sì sono davvero poche Pensare che con la merda Di carte del genere Sia l'unica forma Di manipolazione Comunque Di selezione Ma questa è l'unica Sul formato Appunto La rigi C'è anche Sea Beyond Gran carta Sì che Peschi 2 Una la mescoli Nel mazzo Però è sorcery Comunque ricordiamo Che Wagner giocherà Anche domani A Legacy Angelo ha pescato Angelo Come me E poi gli stessi Più o meno Una propria Angelo Stessi mazzi Stavo dicendo Sì domani Mi aspetto Un'invasione di Ant Sì No veramente Domani gioco Ant Con il Burning Wish Per avere Sadistic Sacrament Di 6 Grande carta Sadistic Sacrament È una carta Che esilia Tre canti Comunque tornando Allora Vediamo che Angelo Sta cercando Più non posso Sta spingendo anche lui Molto sul proprio Sping Non sta lasciando Suo mazzo Fermo Proprio perché Sa che Se arriva in questo caso Lui è la lunga rischia Che a un certo punto Wagner Gli storme In risposta È una delle cose più Abili Di proprio Di Wagner Quindi Angelo Non può aspettare Più di tanto Si verrà comunque Il mazzo di Wagner Chiude velocità instant Si Ed è una sua caratteristica Che Angelo Conosce molto bene Wagner Cosa ha pescato Ha pescato in questo momento Un bel peschino Ah si Beyond Credo No Il Vision No no Non sappiamo che cos'è Ah Vision of Beyond Si Vision of Beyond Che se hai 20 carte Per schiena Allora vediamo un po' Come è la situazione Ce l'ha tra l'altro Non ce l'ha in questo momento Ce l'ha Allora vediamo Ce l'ha ti dico No ce l'ha 3,6 Si giusto 22,5 Adesso Allora ragioniamo un attimo Noi conosciamo Il Twin Che è al cimitero di Wiki E' stato scartato di Fretto Si Quindi Wiki Come l'ho visto prima Un Twin l'aveva Supponiamo che questa sia la seconda copia Si è abbastanza sicuro di questo Perché Wiki Non può vincere di race Con Ascenza in campo Con Trasforma Certo E ora mi sa che Wiki Eccolo là Il criptico Se non sbaglio Guardate Angelo è stato parecchio bravo su questo Ah perché Vedo tre mana open Potrebbe fintare Uno snap Secondo me è al dispel Dici Eccolo lì Vedete Qua veramente Devo fare l'applausi ad Angelo Perché Tanti avrebbero utilizzato Quel criptico Torni prima Invece lui si è portato avanti Col gioco Con Il Con il faro Per arrivare In questa situazione E E bloccare di nuovo Il gioco di Wagner Era la fine del turno Di Wiki Ora riproposto Ascension E ci stappiamo Due giocatori Diciamolo Perché anche Wagner Si è ritrovato A far Quel blef Di mana morph Proprio per Per far sì che Wiki provasse Il criptico nel suo Probabilmente il mazzo di Wagner È il meno costoso Del modern Assieme al blu tron Tanti infatti E nonostante questo Risultati Arrivano Per Wagner Ti ricordi Pax Quando oggi inizia il giornale Mi ha detto che Wagner Non faceva mai risultato Mi è venuta in mente Ma non è vero Ho detto che Non ha fatto tantissimi risultati Noi però non lo sappiamo Tra l'altro Non sembra che gioca in Germania Gioca solo in Italia Per quanto mi riguarda Sì infatti Ma lui veramente è italiano Se vi raccontrere il suo cognome È Regna V Quasi italiano Che battute Questa è la massima A far la battuta Andarmi la colpa Io che c'entro Perché si apre Se la piglia Con gli altri Sembra a me Quando siamo torose Elettrolisi Elettrolisi di cadere in risposta Sta cercando qualcosa Sta cercando qualcosa Magari Bel faretto a fine turno Gli da quello che sta cercando È che Adesso Wiki È in un momento in cui Potrebbe essere pericoloso Attivare Faro Ma secondo me Non ci arriva praticamente Ecco vedete Lui è costretto praticamente A farlo Però noi non sappiamo Wagner cosa potrebbe fare In risposta Con la scienza In giacarica 1 Infatti Sta pensando Ecco che arriva Ecco Carica 2 scienze Ecco Secondo me Qua sono i guai per Angelo Vediamo un po' cosa pesca Potrebbe essere finita La carta che cambia Proprio è Manamorf E Wagner non macinata Ecco la bomba Ancestral Pesca 6 Sbaglio No è giusto 6 Eccola lì Potrebbe essere finita In questo momento Ecco qui Che ha scartato Non ha scartato Gli ha macinato Se l'ha macinato Scuola Perché vedete Anche qua si vede molto La conoscenza di Wagner Perché Tutti avrebbero continuato A automacinarsi In mazzo Invece Wagner ha preferito Macinare il mazzo Ad Angelo Che vantaggio Che vantaggio In tre Va trovare Chiaramente Una manamorfosi No vabbè Il vantaggio Perché macinarsela Sì sì E arriva il terzo Sono 9 Per 2 18 Angelo Quindi Praticamente hanno ragione Quelli che hanno detto Che non è uno storm È un